E ritorniamo in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Il Consorzio del Porto di Alghero ha partecipato al Salone Nautico Internazionale di Genova all'interno degli stand della Regione Sardegna e di Assonat insieme alla Union Camere dove con una nostra hostess, si legge, è stato distribuito materiale informativo del porto e della città oltre a dare informazioni dettagliate sui servizi al diportista che offriamo nel porto di Alghero. Questa partecipazione fa sapere il Presidente del Consorzio Giancarlo Piras è stata positiva, visti i numerosi contatti avuti con utenti nautici nazionali e internazionali che hanno dimostrato grande interesse per la Sardegna, per la nostra città e per il suo porto. Questa edizione fieristica, nonostante sia stata ridotta e rimodulata, ha visto una buona partecipazione di espositori e di visitatori internazionali con un target medio-alto che, nonostante la crisi del settore, fa presagire un'auspicabile e sensibile ripresa. Le offerte del Consorzio del Porto di Alghero, che da quest'anno sono sensibilmente migliorate grazie al nuovo contratto di servizi per l'assistenza al transito e agli stanziali con la Società Nautica Aquatica e al nuovo Centro Servizi nel Molo Visconti che offre qualificati servizi richiesti dal diportista nell'ottica di ulteriori interventi utili a migliorare il funzionamento del porto. I prossimi appuntamenti sono Düsseldorf, Londra, Parigi, dove ospichiamo come sempre della collaborazione della Regione Sardegna e delle Camere di Commercio. Venerdì 11 ottobre, a partire dalle 10, lo Spazio T, nella sede di Via La Marmo, rappresenterà i nuovi corsi dell'anno 2013-2014 e con l'occasione spegnerà la sua quarta candelina. Aperto nel 2010 dall'attore Maurizio Puline e dall'attrice regista Chiara Murru, lo Spazio T, impegnato nella progettazione e nella produzione di eventi teatrali, porta avanti con grande professionalità e costanza l'attività di formazione, proponendo laboratori di teatro per bambini, ragazzi e adulti e da quest'anno corsi di magia e di tango, corsi per spettatori, per famiglie, corsi di lettura e di circo. Questi nel dettaglio, i laboratori per i bambini a partire dai 5 anni, la magia del clown, un primo approccio ludico al mondo del clown e della magia, gioco teatro, il laboratorio di teatro tra giochi e movimento per imparare a gestire il proprio corpo in relazione con gli altri spazi, play, giocare e citare in inglese, dove l'apprendimento della lingua inglese avviene attraverso il gioco del teatro. E dal teatro allo sport, sconfitta per il Fertilia, ieri al Mariotti contro il Sant'Odoro nella gara valevole per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia di eccellenza. La formazione di Paba, nonostante diverse occasioni, non è riuscita a far sua la partita, né tantomeno a trovare il pari, discorso qualificazione rimandato alla gara di ritorno. Battuta dal resto in Coppa Italia per il Fertilia, la formazione Giuliana non è riuscita ieri a superare il Sant'Odoro, che l'ha battuta per 1-0 al Mariotti. La partita non è stata certo delle più esaltanti giocate in questa stagione dalla squadra di Paba, che è mancata forse nella sua solita grinta e determinazione. C'è anche da dire che sono state numerose le occasioni da rete dei Canarini, che però purtroppo non si sono concretizzate. E proprio dopo un primo tempo giocato in avanti, il Fertilia si è visto insaccare la palla dello svantaggio da parte del gallurese Ibba, che ha approfittato al 32esimo di una respinta del portiere Giuliano Murgia, su punizione di Siatsu, che ha così insaccato la rete dell'1-0. Nel secondo tempo Paba prova a dare una svolta con i cambi, e tra questi inserisce Matteo Tedde, fino a quel momento in panchina per il turnover che il tecnico aveva annunciato già dalla vigilia. Il giovane Marco Carboni prova più di una volta a sorprendere Corsi, ma l'estremo del Sant'Odoro ha messo letteralmente anche la faccia per proteggere la sua porta, negando il pari ai Canarini. C'è anche il tempo per una protesta da parte del Fertilia, per un rigore negato, dopo che Mereo è andato giù in aria per un contatto con Elia. La partita è terminata però 1-0 per il Sant'Odoro, ieri guidato per la prima volta dal nuovo mister Tommaso Tatti, subentrato al dimissionario Giovanni Pittalis. Discorso qualificazione dunque rimandato alla gara di ritorno, quando sarà il Fertilia ad andare a far visita alla formazione gallurese. L'Alghero Bike si conferma a podio con Andrea Galluccio e Daniel Foglianesi, che domenica nella terza prova del Grand Prix di Osilo hanno ottenuto due ottimi terzi posti. Domenica 6 ottobre si è disputata ad Osilo la terza prova del Grand Prix Massimo Melis, gara di mountain bike, disciplina cross country organizzata dalla società di Casa Osilese e che si è svolta interamente nella pineta di Acente il Paese. Un percorso molto selettivo con discese e strappi in salita. L'Alghero Bike era presente ai nastri di partenza con cinque atleti divisi nelle rispettive categorie. Alle 10, come sempre, griglia per le categorie giovanili. Il portacolori dell'Alghero Bike, l'allievo di secondo anno Andrea Galluccio, l'ha spuntata dopo una gara vincente sull'avversario, ha conquistato la terza piazza. Francesco Cattogno invece si è difeso egregiamente nella sua categoria esordienti di secondo anno, piazzandosi sesto. Poi, alle 11, le categorie superiori, con subito in evidenza Daniel Foglianesi, che pur lottando con i diretti avversari per tutti i giri a disposizione, si è dovuto accontentare del terzo posto nella categoria junior. A seguire Luciano Cattogno con un quarto posto nella Master 4 e a chiudere un buon rientro alle competizioni di Stefano Ortu, che ha ottenuto l'undicesima posizione nella categoria Elite Master Sport. Nota di merito per Alessia Contini, che ha ottenuto un buon secondo posto nella categoria Donne Giovani. Domenica prossima l'Alghero Bike, con grande entusiasmo, sarà rappresentata dal forte atleta di casa Daniel Foglianesi nella prima tappa del Giro d'Italia ciclocross che si svolgerà all'interno dell'Isola d'Elba. Le due ruote chiudono l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo. Grazie e arrivederci.